Il ruolo del front office manager è quello di coordinare e supervisionare il reparto del ricevimento dell'hotel e quindi il mio compito è appunto supervisionare che tutto vada bene per il soggiorno di un cliente dal momento del check-in al momento del check-out. Il lavoro cambia quando c'è la nazionale del rugby in primis per una questione organizzativa. La squadra in questo caso trova le chiavi già pronte, quindi viene fatto anche in anticipo un lavoro di assegnazione in base a quelle che sono le richieste della squadra. Quindi sotto questo punto di vista è molto il lavoro pre-stay. Durante il loro stay, insomma, sono gli ospiti perfetti, sono molto tranquilli, hanno la loro giornata organizzata. Un episodio simpatico da raccontare riguardo la nazionale del rugby quando è in casa da noi è che si bloccano negli ascensori, ragazzi. Mi è capitato in un hotel in cui, in un ascensore in cui ce ne entravano tre, giustamente sono belli piazzati e gli ascensori si bloccano. Quindi c'è capitato spesso che con i ragazzi del rugby gli ascensori si sono bloccati. Grazie.